Ciao ragazze! Benvenuti nell'area YouTube del convento di Lonato! Siamo qua in compagnia di un trio di bellissime ragazze che vengono da dove? Aprica! Aprica si trova dove? Dove? Sondrio, vi cito al microfono che i vostri nomi, bellissime ragazze? Giulia! Giulia, Silvia e Monica! Festeggiate cosa qui al convento di Lonato? I coscritti! I coscritti di quale anno? 93! 93, perfetto! Allora ragazze, ditemi qual è il ricordo più strano che avete in comune della classe, della classe 93 della Aprica? Qual è? La cosa più strana è i professori, lo scherzo, più strano che avete fatto i professori qual è? Vi nascondevate sotto i banchi a rubare i libri di quale materia? In inglese! In inglese, la professoressa chi era? Anna Fiorina! Anna Fiorina, ok? Facciamo anche pubblicità alla professoressa che ormai siete cresciute, siete grandi, quanti anni avete quindi? Quasi 18! Quasi 18? 18 e mezzo! 18 e mezzo, quasi 18! Quindi te sei già patentata? Ho segato due volte, sì! Io sì! Te sei già patentata? 9! Te 9 e non sei 18 anni, non so se è la priga, dando già la patente prima dei 18 anni, però dubita, in Italia è anche la priga! Te ti hanno segato due volte? Una volta in Torino e una volta in pratica? Adesso devi rifare il foglio rosa! No, no, ho fatto l'esame di pratica! Solo l'esame di pratica, quindi ti stai impegnando a guidare! Quando è che ce l'hai? Il 39! Il 39! Quindi ragazzi, gli facciamo un bel in bocca al lupo e direi che potremo dedicargli una canzone che vi porterà fortuna per l'esame, ok? Bene! Ok, che canzone volete cantare ragazzi? 50 e mezzo! Di? Di chi? Di Luna Pop! Luna Pop! Ok, vai ragazze! Ma andiamo? Vai, le mani a tempo! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ma quanto è bello andare in giro con le ali e sotto i piedi! Se ne è bello andare in giro con le ali e sotto i piedi! E poi c'è un po' di città! Non eravate attente ragazzi! Non era valla attenta! Vai! Vai! Bravissime la classe 93 dall'Africa! 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 Che sono veramente bravi a cantare come saranno bravi anche a scuola spero! Ok subito una domanda Bruce Apelo! 3 per 2? 2 per 3? Cambiando l'ordine del fattore il prodotto? Il prodotto non cambia! Bravissime!